Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato nello scorso fine settimana il dispositivo dei controlli sul territorio, compresa la vigilanza fissa ai moli di imbarco in aeroporto e sulle isole del Golfo, con l'obiettivo di monitorare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale sono state controllate tra Napoli e l'area metropolitana 868 persone, 140 attività commerciali, 33 le sanzioni complessive. I cittadini sono stati sorpresi fuori dal proprio comune di residenza, in orari non consentiti, senza un valido motivo, senza dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevande all'interno di bar. Queste le principali violazioni registrate e poi quelle situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle, come il contrabbando di sigarette, lo spaccio e l'uso personale di sostanze stupefacenti e il commercio di botti illegali. Nello specifico il secondo luco operativo metropolitano nel quartiere di Agnano ha sequestrato 312 euro in contanti e 6 videoslot prima di autorizzazione e non collegate alla rete telematica. La compagna di Portici ha sanzionato poi un'associazione sportiva dilettantistica e il gruppo Fratta Maggiore ha sequestrato a Caivano, nel Parco Verde, diverse dosi di cocaina. Le fiamme gialle hanno poi sequestrato a Bosco Reale anche 18.100 fuochi pirotecnici messi in vendita da un negozio di articoli per la casa abusivamente e senza certificazione per la prevenzione di incendi.